dura la vita da bivacco ragazzi buongiorno amici di free your place sono qua con nicolò ed edoardo che è in seduta e abbiamo parcheggiato a pralungo quota 985 metri siamo nella valle di zoldo giornata pazzesca ci aspettano un paio d'ore siamo diretti a bait angelini si guarda ragazzi anche oggi allora messaggio speciale per romero oggi siamo venuti a fare il bivacco angiolini a forno di zoldo e il nostro amico edoardo sta anche battendo il sentiero quindi la prossima volta puoi venire anche se ti facciamo fare un gran video e almeno ci dai una mano a portare anche la legna cazzo ragazzi la verità è che ci stiamo devastando di salita e neve alta ma il posto è una figata pazzesca guardate che vista e qui abbiamo altre cime con il tramonto in atto ecco riguarda ragazzi ore 6 5 rette di cammino porco cane ragazzi io a mezzanotte con più gli anni un'esperienza abbastanza estrema l'abbiamo trovata cazzo è sicuramente difficile c'è un più di un metro di neve adesso ripeghiamo dopo vi facciamo vedere oggi ci siamo spaccati di fatica buongiorno ragazzi nottata impegna attiva abbiamo trovato un bel po di neve però super panorama ciao bivacco è stato un piacere si torna al sentiero ciao 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 lago di vac ragazzi qui ho quel che si riesce a vedere che vacata one two three four eccoci qua ragazzi siamo arrivati finalmente alla macchina siamo stati a bivacco angiolini siamo a forno di zoldo è stata una camminata veramente impegnativa complice un metro di neve è stata veramente dura edoardo si è comportato al meglio anzi ha trainato il bob con 15 kg di legna per 3 km bravo edo poi ha detto beccatevelo voi abbiamo un po' sofferto il freddo la temperatura è andata veramente bassa ma siamo tornati sogni e salvi e questo è l'importante posto veramente affascinante e merito a un giro ragazzi continuate a seguirci sia su instagram su youtube e su facebook www.freeourplace.com da andrea niccolò e special guest edoardo freeourplace vi saluta dai e